Best for Soil. Compost. Informazioni pratiche. Ciao, mi chiamo Alfred Grand. Questo video di Best for Soil illustra la definizione generale di compost, nonché i tipi di compost. Si possono vedere anche quali sono i vantaggi nell'utilizzo del compost e quali problematiche si potrebbe dover affrontare usando il compost. Alla fine del video sono riportate ulteriori informazioni su questi argomenti. Consigliamo di guardare gli altri video di Best for Soil sul compost e altri argomenti relativi alla salute del suolo. La sostanza organica compostata, o COM, è un prodotto che deriva dalla decomposizione microbica della matrice organica in condizioni aerobiche. A seconda del metodo di compostaggio, delle dimensioni, dell'intensità dell'operazione e del materiale di partenza, è possibile produrre una vasta gamma di compost con qualità diverse. Il compost termofilo, chiamato anche compost da decomposizione a caldo, è il tipo più comune di compost. Può essere prodotto a scale diverse, da piccoli cumuli con rivoltamento manuale, a metodi di compostaggio a scala industriale, dove il rivoltamento è effettuato da trattori o addirittura da semoventi. Il compost termofilo raggiunge temperature da 60 a 65 gradi centigradi per diversi giorni all'interno del cumulo. Queste temperature garantiscono l'eliminazione o l'inattivazione dei semi di erbe infestanti e agenti patogeni nel compost. Il vermicomposting è il processo di compostaggio più naturale. Coinvolge i lombrichi epigei come le isenia fetida. In questo processo è importante non superare i 35 gradi centigradi, altrimenti i lombrichi possono morire. Vermicompost ha la più alta diversità di microbi ed è considerato efficace nel sopprimere alcuni patogeni, ma non uccide o disattiva i semi di erbe infestanti. Pertanto, nella produzione su larga scala, si raccomanda una combinazione di compostaggio termofilo e vermicompost. Altri metodi di compostaggio, come il compostaggio sul campo o il compostaggio di base, sono anch'essi praticati. Per definizione, il compostaggio viene sempre effettuato in presenza di ossigeno, quindi i metodi che utilizzano condizioni anaerobiche non sono adatti al compostaggio, ma alla fermentazione. A causa dell'intensa lavorazione del terreno e di altre misure di gestione del suolo, il contenuto di sostanza organica dei nostri suoli è diminuito drasticamente nell'ultimo secolo. L'applicazione del compost può aumentare significativamente la sostanza organica nel suolo. La riduzione della sostanza organica del suolo, le frequenti coltivazioni, i pesticidi e l'applicazione di fertilizzanti minerali hanno portato ad una riduzione della diversità microbica. Il compost non è solo una risorsa di diversità microbica, ma fornisce anche nicchi alimentari e rappresenta un habitat per i microbi del suolo. L'applicazione a lungo termine e continua di nutrienti chimici come azoto, fosforo e potassio ha provocato una mancanza di fertilità. Il compost contiene non solo alcuni nutrienti principali, ma anche oligoelementi e organismi del suolo che sono in grado di mobilizzare i nutrienti bloccati nel terreno. La biodiversità è la principale risorsa della natura nella lotta contro il predominio di alcune specie. L'agricoltore e produttore può sfruttare il compost per ricreare la biodiversità nei terreni e quindi controllare o eliminare le malattie trasmesse dal terreno. Quali sono le principali sfide per la produzione e l'applicazione del compost? Il compost o anche le materie prime per produrlo non sono sempre disponibili. Questo problema si estende anche alla tecnologia di produzione e spargimento del compost. A seconda della zona, devono essere prese in considerazione normative diverse per la produzione e l'uso del compost. A seconda della zona, devono essere prese in considerazione normative diverse per la produzione e l'uso del compost. Esiste anche il rischio, attraverso l'uso del compost, di trasferire contaminanti come detriti di scarto o metalli pesanti nel terreno. Per avere maggiori informazioni sul compost, si può visitare il sito web Best for Soil, dove si possono trovare risposte aggiuntive.